Buongiorno e benvenuti su Weekend Rolot. Oggi siamo in sosta libera. Facciamo una mezza giornata di sosta libera. Siamo in riba al po. Siamo in riba al po. Siamo in riba al po. Molto. Con la scusa di far girare un po le gomme di Rolot abbiamo deciso di fare una mezza giornata qui. Adesso ci facciamo una passeggiata, torniamo un po in giro e poi torniamo a casa. Giusto un po di svago. C'è un timido sole e un po di nebbia. Però insomma... una bella passeggiata in mezzo alla natura. è sempre bene. eccoci. una bella boccata. comunque il link è in descrizione. adesso vediamo se riusciamo a vedere qualcosa, se mi ricordo dove passavo quando ero ragazzo. andiamo. la cosa bella di questo sito militare, di questo forte è che affaccia direttamente sul fiume Mincio. è un po' di nebbia. da sotto ci sono dei cunicoli che andavi tutto sotto sì sì sono sotto andavi andavi la sotto io c'ero andato un pezzettino eh a 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 bene per questo video adesso è veramente tutto ieri siamo stati in riva al po oggi mi ha fatto un giro al forte di pietole speriamo di ritornare presto a viaggiare vi ricordo che vi chiedono lotte sia su facebook che su instagram se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale ciao a